Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del Tg6. È stata una giornata dell'epifania, evidentemente funestata dal maltempo che era atteso ed in effetti è arrivato da oltre 24 ore la neve e il gelo in questa morsa. La nostra regione con temperature polari e anche con notevoli disagi, in particolare alla circolazione. Intanto vediamo il servizio confezionato dalla nostra Francesca Romana Testi, poi successivamente gli ulteriori aggiornamenti. Ondata di maltempo in Abruzzo, freddo, neve e raffiche di vento su tutta la regione con fenomeni più severi nell'entroterra. Nella serata di ieri è stato dichiarato il codice rosso per la situazione riscontrata sulla A14 con il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. Disagi chiusi al traffico per le abbondanti precipitazioni, la statale 17 della Penina Abruzzese dal chilometro 107 al 149, la statale 5 Tiburtina Valeria dal chilometro 135 al 155, traffico rallentato per il nevischio sulla statale 714, tangenziale di Pescara dal chilometro 0 al chilometro 5 e 6. Nella mattinata è stata comunicata la chiusura dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo fino alle 13, problemi di circolazione anche per la società di trasporto Unico Tua che nella serata di ieri ha comunicato l'interruzione delle corse per Torricella, Pizzoferrato e Montenero Domo per la provincia di Chieti e per Isola del Gran Sasso dove un bus ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Forti nevicate nell'Aquilano, a Sulmona 60 centimetri di neve, un metro a Roccaraso e neve in tutti i comuni della Valle Peligna. A Roccaraso si circola con gomme termiche o catene, a lavoro mezzi spargisale ma si prospetta un weekend soleggiato e pieno di neve per gli impianti sciistici. Imbiancata anche la costa pescarese che non ha riscontrato particolari criticità per la viabilità tranne le segnalazioni riguardanti i detriti portati dalle forti raffiche di vento. Problemi invece per i colli dove ieri si è registrata la temporanea interruzione del servizio elettrico e la formazione di ghiaccio nelle strade interne, chiusi con un'ordinanza da ieri e fino al prossimo 7 gennaio parchi cittadini e cimiteri per evitare la caduta di rami. L'autostrada che collega l'Aquila e Pescara con Roma è percorribile solo con dotazioni antineve. A Lanciano il ghiaccio è il maggior pericolo riscontrato nella mattinata sull'intero comprensorio frentano. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia per le auto in panne. 10 cm di neve in centro e 25 nelle zone alte. A Tessa ha raggiunto quota 50 cm di neve che raggiunge il metro nel medio-alto sangro come Pizzoferrato, Monteferrante, Schiavi d'Abruzzo e Castiglione Sermarino. Nevicate abbondanti anche sul Terramano dove operativo il piano neve della provincia di Teramo che rende nota la presenza di 44 mezzi privati contrattualizzati con il servizio a chiamata e monitorati con il GPS che consente tracciabilità dell'operato e razionalizzazione negli interventi. Particolare attenzione, viste le previsioni meteo, è dedicata alla costa dove i cittadini sono meno abituati ad affrontare bufere di neve. Presidiata tutta la montagna e in due zone, le provinciali che conducono agli ospedali di Atri e Santomero sono previste postazioni fisse per far fronte ad eventuali situazioni critiche. I mezzi dell'ente presidiano la 259 della Vibrata. Nel servizio si parlava della chiusura odierna dell'aeroporto d'Abruzzo ebbene è stata disposta una nuova chiusura dell'aeroporto. Lo scalo in base alle vorversi delle condizioni meteorologiche tornerà operativo non prima di domani. Restano a terra i passeggeri del volo per Francoforti in attesa di partire da oltre 30 ore e di quelli per Torino e per Bergamo. Una breve riapertura dello scalo all'ora di pranzo ha consentito l'atterraggio del volo proveniente da Torino e la partenza di quello per Londra. È stato invece dirottato su Ancona l'aereo in arrivo da Tirana che è ripartito per l'Albania sempre dal capoluogo marchigiano con il trasferimento in pullman dei passeggeri da e per Pescara. La saga si sta occupando dell'assistenza a terra dei passeggeri molti dei quali verranno trasferiti negli alberghi della zona. Poi Anas fa sapere che in Abruzzo sono state riaperte alla circolazione la strada statale 5 Tiburtina Valeria dal chilometro 135 al chilometro 156,7 e la strada statale 16 Adriatica precedentemente interdetta tra i chilometri 504 e 505 per mezzi pesanti di traverso a seguito della chiusura del tratto autostradale A14 a Vasto. Resta chiusa per bufera di neve la strada statale 17 dell'Appennino Abruzzese dal chilometro 107 al chilometro 149. E poi vi avevamo accennato in precedenza, vi avevamo detto temperature polari nella nostra regione ebbene al rifugio Franchetti sul versante terramano del Gran Sasso 2433 metri di altitudine il termometro secondo le rilevazioni dei sistemi ACU Caput Frigoris alle ore 16.50 ha raggiunto i meno 19,9 gradi. A Carsoli in provincia dell'Aquila 605 metri sul livello del mare la temperatura è scesa fino a meno 17,8 gradi. Sul monte Gensana, 1980 metri, ci sono meno 17,4 gradi. All'Aquila le diverse stazioni di rilevamento registrano temperature che vanno dai meno 4 ai meno 6 gradi. Anche nel Pescarese temperature al di sotto dello zero a Montesivano meno 0,8 gradi, a Cepagatti meno 2,9 gradi. Nel Chietino il record si registra a Macchia di Taranta a 1700 metri con meno 14,1 gradi, mentre a Chietti la temperatura media registrata è di meno 5,1 gradi. E ora ci occupiamo più specificamente della situazione a Pescara con le dichiarazioni del vice sindaco Enzo Del Vecchio. Centro operativo comunale di Pescara, operativo da ieri sera alle 20, sono stati diffusi tutti i numeri per segnalazione e richieste di aiuto. Come procede la vigilanza sul territorio? Non abbiamo avuto una criticità legata alla neve, diciamo in senso puro, ma al freddo, al ghiaccio. E quindi abbiamo sparso tantissimo, veramente tantissimo sale, tant'è che ci stiamo ancora approvvigionando per prevenire anche la prossima nottata, chiamiamola così, che è quella ancora che ci darà qualche problema di criticità per quanto riguarda il ghiacciarsi delle strade. Non abbiamo avuto difficoltà sul traffico veicolare in nessuna zona, però ogni tanto c'è qualche segnalazione di difficoltà e quindi interveniamo singolarmente anche a chiamata diretta per sopperire alcuni disagi che si incontrano da parte dei cittadini. Da quali zone provengono la maggior parte delle chiamate? La maggior parte delle chiamate sono o i colli alti oppure ecco in questo momento stiamo intervenendo in via San Michele che è una stradina piccolina con un bobcat attrezzato con uno spargi sale dopo aver fatto tutte le strade principali chiaramente oppure nella parte di San Donato Alto. Sono diciamo le ultime stradine residue e poi riprenderemo a percorrere o meglio già si sta ripercorrendo le strade più a scorrimento veloce perché la temperatura insomma sale scende intorno allo zero e quindi c'è sempre preoccupazione della formazione del ghiaccio però una volta come dire buttato, gettato il sale sulla strada insomma questo ha un effetto non limitato in poco tempo ma si protrae per un certo periodo di ore. Al momento non abbiamo registrato criticità né nella sala operativa del COC né nella vicina sala operativa della Polizia Municipale. Qualche intervento in più abbiamo dovuto fare per il vento che ha divelto diversi segnali stradali qualche transenna, qualche barriera in cantieri insomma questione di altro tipo di pericolo e stiamo intervenendo con gli operai su questo tipo di nuova emergenza. Parlando anche di vento c'è stata un'ordinanza firmata sempre nel pomeriggio di ieri per la chiusura dei barchi cittadini e dei cimiteri. Sì, chiaramente non siamo entrati per verificare se ci sono danni lo faremo sicuramente dopo ma oggi ci stiamo occupando di diciamo delle aree libere i parchi e i cimiteri li abbiamo tenuti chiusi devo dire a ragione visto le temperature abbastanza fredde e quindi con la possibilità di caduta di rami ne abbiamo avute un po' su strada del palazzo stiamo intervenendo con gli operai del comune abbiamo il problema della sabbia sulla riviera insomma cartelli pubblicitari buttati a terra o anche qualche luminaria che si è staccato i fili insomma tanti piccoli interventi ma stiamo operando diciamo senza soluzione di continuità anche se per prepararci alla serata qualche squadra abbiamo allentato diciamo la pressione quindi qualche squadra adesso è a riposo. Disagi anche per la marineria a Pescara ascoltiamo le parole del rappresentante degli armatori Mimmo Grosso Con il maltempo sono arrivate anche le raffiche di vento la preoccupazione della marineria era proprio quella delle imbarcazioni sono state spostate a causa dell'insabbiamento si trovano alla banchina a nord del Molo a Pescara ma la situazione come sta evolvendo? La situazione pensavamo molto peggio perché adesso i venti spiedono la tramontana non sono proprio da nord est tante imbarcazioni della banchina sud sono venute a dormeggiarsi a nord perché si sta meglio tante imbarcazioni di Ortona sono venuti che fanno base a Ortona sono venuti nel porto di Pescara e niente la situazione fino a che rimane così è ancora sotto controllo poi se dovesse girare da nord est allora cominciano i guai anche perché molte imbarcazioni si muovono tantissimo negli ormeggi poi adesso appena ci sarà un attimo di calma chiederemo al comandante Moretti di fare un rilevamento badimetrico all'imboccatura per assicurare l'uscita e il rientro perché dopo questa tempesta la situazione sicuramente sarà molto più critica di prima il comune di Montesilvano ha attivato il COC il centro operativo comunale per la pianificazione dell'emergenza neve che sta interessando la città mezzi e uomini continuano le operazioni per liberare le strade dalla neve e dal ghiaccio si raccomanda la massima prudenza i cittadini sono invitati a non uscire se non per casi strettamente necessari a non utilizzare le autovetture se non con gomme termiche o catene montate attivi per segnalazioni i numeri di telefono che in precedenza abbiamo visto in sovrimpressione magari possiamo riproporli 085 44 81 259 e 085 44 50 977 per quanto riguarda sempre il comune di Montesilvano dalle ore 12 di ieri fino alla mezzanotte di domani ricorda il primo cittadino Francesco Maragno abbiamo inoltre disposto il divieto di ingresso in tutta la pineta per salvaguardare l'incolumità delle persone a causa della stabilità degli alberi che la neve potrebbe compromettere oltre che il divieto di parcheggio nelle strade adiacenti e attraversanti la riserva sempre fino alle 24 del 7 gennaio abbiamo disposto la chiusura di parchi giardini pubblici e del cimitero comunale nonché il divieto di accesso in giardini e parchi non recintati poiché il vento forte la neve o il ghiaccio potrebbero causare situazioni di pericolo ed ora il punto della situazione in provincia di Pescara in particolare nell'area vestina l'annunciata perturbazione nevosa dell'epifania è arrivata e si sta battendo sull'area vestina già dalle prime ore del pomeriggio di ieri con nevicate consistenti, vento forte anche se il pericolo principale però resta il ghiaccio nei principali comuni dell'area la situazione è sotto controllo grazie anche alla tempestiva apertura dei coc per la segnalazione delle varie problematiche l'accumulo più rilevante si regista nel comune di Farindola dove la coltre bianca si aggira sui 40 centimetri a Penne si lavora incessantemente dalle ore 15 di ieri per liberare le zone e le vie di accesso che portano al nosocomio vestino grazie al costante aiuto della protezione civile Croce Rossa e Soccorso Alpino sono rimaste senza corrente le contrade di Colle Stella, Colle Maggio e invece restano isolate alcune abitazioni nella contrada di Roccafina d'Amo dove si è abbattuta una vera e propria bufera di neve le previsioni danno neve anche nelle prossime ore con temperature bassissime e quindi inevitabile formazione di ghiaccio e per questo la provincia che sta costantemente monitorando la zona e lavorando per pulire le principali artarie con mezzi spazzaneve e spargisale sconsiglia di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario ondata di maltempo che interessa anche la provincia di Teramo l'interno ma anche la costa in particolare nel triangolo Silvi Pineto Atri giornata impegnativa per le cattive condizioni atmosferiche su tutta la provincia di Teramo con forti raffiche di vento e neve e temperature sotto lo zero i mezzi dell'ente e quelli delle 44 imprese esterne sono tuttora impegnati sulla lunga rete provinciale per garantire la transitabilità da ieri sono al lavoro complessivamente 83 mezzi per mantenere pulite le principali vie di accesso e spandere il sale ad Atri sulla provinciale 553 gli operatori della provincia e la polizia di stato sono dovuti intervenire per far ripartire un camion al quale si sono rotte le catene e che è rimasto fermo sulla carreggiata bloccando il transito nel triangolo Silvi Atri Pineto si sono registrate le situazioni più difficili a causa di una bufera di neve che si è placata solo nel primo pomeriggio spazza neve e sale anche in vibrata dove le strade più critiche sono la provinciale 8 e la provinciale 3 preoccupazioni per le prime ore del mattino di domani viste le temperature sotto lo zero è considerato che la provincia in queste ore ha devoluto circa 1500 quintali di sale ai comuni che avevano terminato le scorte disagi inevitabili con condizioni atmosferiche così avverse ha dichiarato il presidente della provincia Renzo Di Sabatino per questo è necessaria la collaborazione dei cittadini anche il sale con temperature sotto lo zero non riesce a svolgere la sua funzione e a sciogliere il ghiaccio che comunque si riforma un attimo dopo tutti devono usare catene e gomme termiche anche quando la strada è sgombra e ci sono pericolosi tratti di ghiaccio circa le evoluzioni delle prossime ore il punto con il nostro meteorologo Luca Mennella per quanto riguarda le precipitazioni che sono previste nelle prossime ore dalla mappa delle precipitazioni previste fino alle 12 di domani pomeriggio risultano ancora piuttosto intense soprattutto per quanto riguarda il medio e il basso adriatico dove sono attese ancora delle nevicate le temperature sono in ulteriore lieve diminuzione fino alla giornata di oggi poi da domani tenderanno lentamente a salire per poi attestarsi su valori medi nel corso della prossima settimana e in conseguenza del maltempo e delle previsioni che annunciano il protarsi di questa ondata domani a Teramo non si terrà il mercato settimanale del sabato che sarà recuperato in data che verrà comunicata successivamente e ora chiudiamo il giro di verifiche nei vari territori abruzzesi e ascoltiamo le parole del primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio e le criticità che si sono registrate nella città teatina guardi qui abbiamo un problema serio perché Anas e in parte la provincia non stanno provvedendo a pulire bene la strada di collegamento noi stiamo lavorando intorno a tutta quell'area se dovesse persistere questa non attività da parte dei due enti provvederò io a far pulire quell'area ma sarebbe opportuno che ognuno di noi coprisse le aree di propria competenza e quelle particolarmente sensibili quali l'area ospedaliera è ovvio che se dovesse non essere previsto l'intervento da parte loro nel bellissimo termine interverremo noi senza difficoltà sto invitando tutti a non uscire se non è necessario soprattutto perché le condizioni sono per davvero proibitive in questo momento a non uscire assolutamente se non si è idoneamente attrezzati le gomme lisce termiche non funzionano quindi è importante che si sia idoneamente attrezzati catene o gomme termiche da neve, invernali, di sinoglia che siano buone e altre segnalazioni non ne abbiamo di verità abbiamo però fatto in modo che fossero raggiunti alcuni cittadini che avevano bisogno di cure mediche che si trovavano in zone non ancora spazzate e abbiamo proprio tutti noi a trasportare dei cittadini che avevano cure di dialisi da effettuare o ultimamente abbiamo agevolato l'attività di un assistente sanitario che doveva raggiungere dei pazienti per l'assistente domiciliare Lasciamo l'ampia pagina dedicata al maltempo sono lievemente migliorate le condizioni della donna marsicana di 51 anni ricoverata da mercoledì scorso nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Avezzano per una forma piuttosto rara ma non contagiosa di meningite listeria monocitogenes la paziente assistita dall'equip guidata dal dottor Maurizio Paoloni resta in prognosi riservata in pericolo di vita e viene trattata con terapia antibiotica tra i piccoli segnali positivi rispetto alla giornata di ieri c'è al momento un calo dei valori della febbre le condizioni restano però molto gravi e dunque i medici mantengono una posizione di grande prudenza sull'evoluzione del quadro clinico gli specialisti ribadiscono che la forma di meningite da cui è affetta la donna non è contagiosa restano stazionari rispetto a ieri invece le condizioni dell'uomo di 84 anni ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Sulmona dal 28 dicembre scorso per una meningite pneumococcica una forma non contagiosa il paziente resta in prognosi riservata persiste l'infezione e lo stato febbrile ma respira in modo autonomo ed è cosciente proseguono i trattamenti terapeutici e ora andiamo all'Aquila come ogni anno si fa la conta delle incompiute misteriose tra queste i due colossi nella popolosa frazione di Paganica il Palatenda e il Palazzetto dello Sport e ora c'è chi accusa direttamente il sindaco Filippo Tronca chi ha scritto quel cartello davanti al teatro tenda è un cretino piuttosto si informi così il sindaco dell'Aquila Massimo Cialenta ammiccando la famosa battuta di Totò commenta il cartello con la scritta Aguri sindaco queste due opere sono la tua vergogna affisse sui cancelli del teatro tenda di Paganica davanti al Palazzetto dello Sport Papa Giovanni XXIII che sorge dal lato opposto della strada due storiche incompiute il teatro tenda aversi stato di abbandono da 20 anni dopo il terremoto nel 2013 i sindacati confederali hanno donato circa 2 milioni di euro ma i lavori ancora non partono il Palazzetto dello Sport Papa Giovanni è stato realizzato grazie a una donazione della Caritas diocesana di Bergamo inaugurato nel giugno 2012 ma ad oggi anche questa struttura non è stata aperta il sindaco premettendo che per quanto riguarda il Palazzetto dello Sport la partita è tutta in mano alla Caritas riferendosi al teatro tenda conferma che ci sono tutti i fondi disponibili i 2 milioni di sindacati più 1,2 milioni di euro assegnati ad agosto dal Cipe e sottolinea che il bando era pronto già inizio 2016 poi però ad aprile è arrivata la iattura del nuovo codice degli appalti che è in posto di ricominciare l'iter da capo con le nuove regole che prevedono ben tre bandi uno per i professionisti che devono fare il progetto esecutivo un secondo per la commissione che deve validare il progetto un terzo bando per assegnare l'appalto questo è uno strano paese commenta Cialente il bando era pronto a primavera a quest'ora stavamo già aprendo le buste poi però ad aprile è arrivato il nuovo codice degli appalti senza nemmeno prevedere una norma transitoria e così siamo stati costretti come tante altre amministrazioni a ricominciare l'iter tra l'altro molto più tortuoso di quello che era previsto e sindacati aggiunge in fine Cialente giustamente preoccupati per le sorti della loro donazione abbiamo illustrato le complicazioni intervenute non dipendenti certo dalla nostra volontà ma confidiamo che in meno di un anno possano cominciare i lavori incrociando le dita perché poi c'è sempre il rischio dei ricorsi delle imprese escluse e restiamo all'Aquila ma cambiamo argomento boom di presenza alla 69esima edizione della Fiera dell'Epifania nessun incidente solo qualche borseggiatore comunque pizzicato vediamo il servizio circa 30.000 persone alla 69esima Fiera dell'Epifania nonostante la nevicata che ha spolverato l'Aquila nel primo pomeriggio e gli spazi ridotti visto che molte strade e piazze del centro storico sono state lasciate vuote per motivi di sicurezza un successo comunque secondo gli organizzatori della federazione ambulanti la FIVA della Confcommercio e il presidente Alberto Capretti ora punta a coinvolgere anche la regione Abruzzo in vista del settantesimo anno della Fiera dovrà essere una festa un'edizione speciale vogliamo tornare a sfondare quota 500 banchetti ha dichiarato ma come tradizione vuole c'è anche un altro bilancio quello stilato dalle forze dell'ordine relativo a scippi e merce sequestrata ovvero tre ordini del questore a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni nei confronti di venditori extracomunitari senza permesso di soggiorno quattro fogli di via cittadini italiani tutti campani con precedenti penali 4.000 capi di merce varia sequestrata in gran parte perché merce contraffatta 150 contravvenzioni per divieto di sosta e ostacolo alla circolazione le denunce per borseggio pari a 15 sono comunque in calo rispetto alle edizioni precedenti colta con le mani nel sacco meglio dentro la borsetta una donna originaria della provincia di Salerno che aveva rubato un portafoglio contenente circa 100 euro e numerosi documenti la donna è stata denunciata a piede libero e ora apriamo la pagina dello sport dopo domani il Pescara tempo permettendo tornerà in campo contro la Fiorentina ma sono momenti particolarmente importanti sul fronte del calcio mercato Pescara che ha già messo a segno tre colpi in via ufficiale e poi sono in arrivo per l'attacco Girardino e per il centrocampo l'argentino Cubas il servizio il Pescara e Alberto Gilardino sono vicinissimi il DS Leone e il presidente Sebastiani sono pronti a confezionare il regalo più gradito per il tecnico Oddo che ha indicato proprio l'ex campione del mondo nonché ex compagno di squadra nel Milan e nella nazionale dell'allenatore del Delfino come il rinforzo principale per l'attacco la trattativa ha avuto un'ulteriore accelerazione ieri sera Girardino è prossimo a rescindere il contratto che lo lega all'Empoli società nella quale non si è espresso al meglio zero gol in 14 presenze solo 5 da titolare l'attaccante di Biella potrebbe recuperare proprio in riva l'Adriatico la sua vena realizzativa almeno questo potranno sperare i tifosi pescaresi che una volta formalizzata l'operazione potranno sognare una rimonta griffata dai gol del Gila per cui è pronto un contratto fino a giugno prolungabile in caso di salvezza praticamente fatta anche per il centrocampista argentino Adrian Andres Cubas importante l'opera di intermediazione possa in essere dalla gente Alessandro Moggi il giocatore classe 96 arriva dal Boca Junior in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro si tratta di un prospetto interessante già opzionato dalla Juventus nell'operazione che aveva riportato in Argentina Tevez il giocatore ha salutato i tifosi argentini sui social e a breve sarà in Italia ieri ufficializzati il prestito fino a fine stagione del portiere Mirko Pigliacelli al Trapari e la cessione a titolo definitivo al Torino del Baby Francesco Mele Davide Vittorini è prossimo alla cessione in prestito in Serie B alla Ternana operazione che potrebbe concretizzarsi quando il Delfino avrà messo le mani su Faraoni dell'Udinese visto che Fiamozzi destinato al Frosinone sta sfumando intanto tra un paio di giorni sarà anche tempo di calcio giocato per il match con la Fiorentina ieri il tecnico Oddo ha fatto le prove generali per la difesa 3 nell'amichevole col San Nicolò trio composto da Coda e i nuovi Bovo e Stendardo Zampano e Crescenzi girano sulle fasce vista anche la scolifica di Biraghi da valutare le condizioni di Meusciai ieri per lui differenziato mentre Verre è stato messo K.O. dall'influenza e se sarà recuperato non partirà comunque titolare senza il capitano Brugman Cristante e Benali potrebbero essere i tre interni con Bruno pronto all'occorrenza in avanti certo Caprari per l'altro posto ballottaggio tra il neottaccante Cerri e Pettinari in maltempo ha condizionato il lavoro quest'oggi del Pescara che al centro sportivo del Poggio degli Olivi ha svolto essenzialmente lavoro in palestra lavoro comunque differenziato per Pepe Fornasier Ghiomber Mitriza Baibach e Verre che dunque se non altro ha recuperato dall'influenza lavoro a pieno regime per Memushai che ieri invece non aveva preso parte alla partitella stop ancora per Zupari c'è sempre a causa della febbre per quanto riguarda la situazione dello stadio in vista della gara con la Fiorentina al momento un piccolo strato di neve sul terreno di gioco spalti accessibili ma la preoccupazione più grande arriva dal gelo previsto nelle prossime ore che sarà evidentemente monitorato oggi prima della seduta di allenamento ha parlato uno dei volti nuovi del Pescara il neo difensore Cesare Bovo le prime impressioni sono state buone sono contento di essere arrivato ho trovato un ambiente positivo molto familiare e comunque un gruppo di ragazzi che ha voglia di fare un gran girone di torno quindi io mi aggiungo a loro mi accodo e c'è tanta voglia di lavorare per migliorare la nostra classifica stimoli di rimettermi in gioco purtroppo arrivo da sei mesi iniziati benissimo e poi disastrosi calcisticamente parlando e a 33 anni non mi sento assolutamente alla fine anzi ho voglia di giocare e sono venuto qui per rimettermi in gioco di aiutare la squadra cercare di dare una mano e credo che l'obiettivo comune sia chiaro sono passato da giocare sempre a non giocare più purtroppo sono scelte che non saprei rispondere sono scelte tecniche societarie questo non lo posso sapere e onestamente non mi interessa neanche più ho accettato con entusiasmo questa chiamata e ho voglia di dare il mio contributo perché comunque la squadra vuole salvarsi sa che comunque è una cosa non è una cosa facile ma non è impossibile con il lavoro possiamo possiamo arrivarci solo stando tutti insieme uniti e crederci che questo credo sia fondamentale ma io fisicamente bene ovviamente l'ultima partita giocata è stata a parte la Coppa Italia che abbiamo giocato con il Pisa è stata qui a Pescara quindi mi sono sempre allenato non ho avuto problemi di nessun tipo e ovviamente la partita è l'allenamento migliore però a livello fisico sto bene c'è da lavorare perché c'è da lavorare in tutti i reparti e in tutte in tutte le fasi secondo me sia in una fase difensiva che in una fase offensiva bisogna capire quello che non è andato nel giro dell'andata e cercare di di cambiarlo scendiamo in Lega Pro il Teramo la prossima settimana tornerà a lavorare per preparare la ripresa del campionato comunque lontana il prossimo 22 di gennaio sul fronte mercato non arrivano buone notizie perché nell'ultima ore sono sfumati due giocatori che interessavano ovvero Berardocco e Ferretti Luca Berardocco non sarà un giocatore del Teramo il centrocampista abruzzese ha lasciato come previsto la San Benedettese ed ha firmato per il Padova restando nel girone B e ritrovando l'ex compagno di squadra ai tempi della Carrarese Dettori un altro potenziale obiettivo bianco-rosso sfuma anche per il reparto d'attacco si tratta di Andrea Ferretti che lascia il Trapani e la cadetteria e ieri sera ha firmato per la Feralpi Salò insomma qualche problemino in fase di decollo del mercato in entrata per il Diavolo la sensazione però piuttosto abbondante sarà possibile affondare operazioni di acquisizione giocatori solo dopo che saranno effettuate alcune in uscita per liberare anche spazio nel monte stipendi della squadra nelle prossime ore si attendono sviluppi ufficiali sul fronte Luca Forte e sul fronte Jefferson il primo è destinato al Carpin Serie B con l'intermediazione del Pescara proprietaria del cartellino circa il secondo fronte ieri la società ha cercato la quadra per la risoluzione del contratto incontrando in sede l'agente dell'attaccante brasiliano che resterà un rimpianto Jefferson non è un giocatore di assoluto valore ma gli infortuni sono troppo condizionanti confermato il ribaltone di intenti sul fronte della difesa in lista di sbarco finisce Filippo Capitagno mentre Caidi è destinato a restare in bianco-rosso dopo attenta riflessione la società di Patron Campitelli si è convinta di far partire un giocatore che per quanto voluto dal tecnico Zauli non ha convinto fino in fondo mentre Caidi ha dimostrato nel tempo grande affidabilità nella casella delle uscite confluiscono anche Manganelli Orlando e la delusione Sales mentre resterà Altobelli in entrata interessa il giolli di difesa l'ex Savona e Pistoiese Niccolò Antonelli in mediana dovrebbero andare via altre delusioni come Davide Peterman e Demetrio Steffè in attacco neanche Antonio Croce è certo di restare sul fronte entrate resta vivo l'interesse per Niccolò Romero della Feralpi Salò più di un pensierino il DS Bolla lo sta facendo per Andrea Razzitti della Piacenza non dispiace neanche Pietribiasi che a Pordenone ha trovato finora poco spazio e chiudiamo con il basket con un incredibile ultimo quarto la Globo Info Service Campri batte in rimonta Giulianova nella penultima giornata di andata del girone D di serie B la squadra di Millina vince 74 a 76 dopo essere stata sotto anche di 21 punti con una incredibile rimonta nell'ultimo quarto la Globo Info Service Campri sbanca il palacastrum di Giulianova sogna alle finals di Coppa Italia 74 a 76 il finale di un match controllato dal quintetto di casa guidato da Ernesto Francani tuttavia incappato in un incredibile blackout che ha permesso alla squadra farnese di completare una rimonta che a un certo punto sembrava impronosticabile basti dire che a metà del terzo quarto Giulianova toccava il massimo vantaggio più 21 62 a 41 reduce dalla vittoria nel recupero contro Senigallia nell'ultima gara del 2016 la squadra di Millina inizia decisamente col piede sbagliato ma resiste al primo strattone Giuliese chiudendo il primo quarto sotto di tre lunghezze 25 a 22 nel secondo quarto però il quintetto di casa scappa ispirato dalle triple di Simone De Angelis e all'intervallo è più 14 per la squadra di Francani 51 a 37 nel terzo quarto come detto c'è anche il massimo vantaggio e al trentesimo è più 16 68 a 52 nell'ultima frazione l'imponderabile Giulianova si distrae non segna più Bottioni 21 punti alla fine e Petrucci 8 punti danno l'infa alla rimonta suggellata dalla tripla di Gatti che vale il sorpasso sul 70 a 71 a tre minuti della fine il finale è ricco di tensione un'altra tripla di Gatti 20 punti per lui alla fine consegna il 72 a 76 sembra chiudere i giochi ma Gallerini prima segna il meno 2 poi ha anche il tiro del pareggio ma è decisiva la stoppata di Serafini Campli vince Sansevero va al tappeto in casa con Matera questo vuol dire che domenica al Pala Borgognoni in un altro derby contro l'amatori Pescara in serie aperta di 7 vittorie la Globo Info Service si giocherà l'accesso alla Coppa Italia con una vittoria l'obiettivo sarà centrato era questo l'ultimo servizio del TG6 che tornerà domani con la prima edizione delle ore 14 con nuovi ulteriori aggiornamenti sulla situazione del maltempo in Abruzzo grazie per l'attenzione e buonanotte grazie a tutti grazie a tutti